Finalmente uno spiraglio per il futuro della cittadella della ricerca di Brindisi. È stato offerto dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante la sua visita a Brindisi alla presenza del Sinaco Marchionna e dell'Orevole Dattis. La cittadella, come è noto, non è passata al vaglio delle infrastrutture strategiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma questo non cancella le speranze di un intervento pubblico. Il Ministro, infatti, considera la cittadella uno dei luoghi della conoscenza e del sapere che non possono essere lasciati vuoti e che quindi devono essere riempiti di significato. Si potrebbe puntare ad esempio sull'alta formazione, anche dal punto di vista tecnico, tenendo ben presenti i settori trainanti, come l'economia del mare, anche sulla scorta della collocazione geografica nel cuore del Mediterraneo. E da questo si potrebbero aggiungere anche delle prospettive interessanti sul piano universitario, attraverso cui valorizzare altri settori trainanti dell'economia brindisina. Insomma, una prospettiva di internazionalizzazione per andare ben oltre i confini territoriali e quindi per porsi traguardi ambiziosi. È evidente a questo punto, con le aperture prospettate dal Ministro, che bisognerà intensificare i rapporti con le Università di Lecce di Bari e con il Politecnico di Bari, in maniera tale, come ha sottolineato il Sinaco Marchionna, da sviluppare una offerta formativa ambiziosa, che non si limiti a un ruolo subalterno rispetto a ciò che già avviene in altre città pugliesi. E su questo aspetto è sintonizzato anche l'onorevole Dattis, il quale parla di sviluppo legato alla formazione e alla ricerca, che sia in grado di determinare anche significativi ritorni occupazionali.